Le caratteristiche dei risparmiatori che investono nel risparmio gestito, possiamo tracciare un identikit? Intanzitutto tutti hanno bisogno di investire, soprattutto in questa fase di elevata inflazione che può essere combattuta per salvaguardare il patrimonio solo attraverso un opportuno investimento diversificato sulle asset class globali. Certamente i risparmiatori che hanno la necessità di investimento innanzitutto si dividono tra chi ha un reddito disponibile e chi invece ha un patrimonio accumulato nel tempo. In questo già dividiamo risparmiatori più giovani da risparmiatori più anziani. I primi radicano la fonte di investimento sul proprio reddito, bisogna anche educarli ad accantonare parte del risparmio dal non dedicare ai consumi. I secondi invece hanno bisogno di salvaguardare il patrimonio accumulato e qui il tema dell'inflazione diventa dirimente. Oggi una quota di investimento azionario è l'unico modo per conservare in termini reali il patrimonio accumulato.